Terzo quesito referendario, scheda gialla, parliamo di separazione delle funzioni. In realtà da un punto di vista televisivo, pubblicitario, diciamo così, si parla di separazione delle carriere. In realtà si parla di separazione delle funzioni dei magistrati. Che significa? I magistrati adesso nel settore penale si suddividono in due grandi categorie. Magistrati che svolgono funzioni requirenti, sostanzialmente i pubblici ministeri per farla semplice, e magistrati che svolgono funzioni giudicanti, cioè il vero e proprio giudice che pronuncia la sentenza. Attualmente questi magistrati di queste due aree hanno la possibilità, in un numero limitato di casi, se non erro il numero di quattro, nel corso della loro carriera tendenzialmente lunga di svolgere funzioni diverse, quindi fare il giudice e poi il pubblico ministero viceversa. Cosa ci dice? Qual è la critica a questo sistema da parte del promotore di referendum? Che c'è troppa commissione fra il ruolo dell'accusa e il ruolo sostanzialmente del giudicante, e quindi la separazione delle funzioni deve essere più stringente, si deve impedire radicalmente che un soggetto magistrato che svolga la funzione requirente di pubblico ministero possa poi svolgere la funzione giudicante e viceversa. Quindi attraverso questo quesito referendario, nel caso di superamento del quorum, del 50% più degli elettori e di vittoria del sì referendario, di fatto si eliminano quelle norme che consentono questa possibilità di un trasferimento di funzioni nel corso della carriera del magistrato. E quindi di fatto il magistrato che svolge le funzioni requirente dovrà fare sempre il magistrato requirente, il magistrato che svolge funzioni giudicanti dovrà fare sempre le funzioni giudicanti. Qual è la critica invece dei sostenitori del no referendum? Si dice che un'eccessiva rigidità nelle due carriere porterebbe due effetti. Un primo effetto è che il pubblico ministero tendenzialmente verrebbe attratto nella sfera dell'esecutivo perché non avrebbe più quell'autonomia, quell'indipendenza che è prova del giudice in quanto tale e quindi questo rischierebbe di letere l'autonomia dell'indipendenza del magistrato pubblico ministero. Dall'altra parte si dice che anche il pubblico ministero è utile che svolga funzioni giudicanti perché si rende conto di come è essere un soggetto terzo, non è più un soggetto soltanto che è volto all'accusa ma che tendenzialmente mantiene anche seppur nel ruolo di pubblico ministero una funzione e una tendenza di valutazione dei fatti super partes. Tutto qua. Se si vota sì, di fatto si delineano due carriere separate totalmente seppur appunto il quesito tecnicamente è relativo alla separazione delle funzioni. Se si vota no, si lascia il sistema attuale con la possibilità per un numero limitato di volte di magistrati di svolgere funzioni giudicanti e funzioni requirenti e viceversa. Tutto qui.